30.000 mi piace e faremo chi mancia il kebab più velocemente Prima di partire col video ragazzi vi volevo parlare di un gioco Il gioco in questione si chiama Genshin Impact È un gioco di ruolo di azione open world rilasciato su Playstation, iOS, Android e PC Mr.Penza questo gioco ha vinto diversi premi tra cui il miglior gioco dell'anno tra il 2020 e il 2021 Questo gioco ragazzi è ambientato nel continente di Teivat dove puoi esplorare 7 diverse regioni I giocatori possono interagire profondamente con l'ambiente, arrampicarsi, nuotare e scivolare Attraverso un mondo meraviglioso con paesaggi mozzafiato da vedere e sfide intriganti da conquistare Puoi anche usare il potere di 7 diversi elementi per sconfiggere nemici e risolvere enigmi Andre con Genshin Impact è possibile anche giocare in modalità cooperativa fino a 4 giocatori da qualsiasi piattaforma Wow, spettacolo Attualmente è stato rilasciato l'aggiornamento 2.5 Questo nuovo aggiornamento comprende una nuova mappa, nuove armi, nuova trama e tantissimi altri personaggi aggiornati Tra cui Yae Miko e Raiden Shogun Con tanti nemici da sconfiggere Sarà possibile andare anche a partecipare al nuovo evento Ingegno Divino Dove lo scopo è stimolare l'immaginazione e la creatività di tutti I viaggiatori possono progettare il proprio dominio utilizzando le risorse che l'evento ha da offrire Durante la progettazione di un'area i viaggiatori possono personalizzare liberamente il punto di destinazione e il posizionamento delle monete avventura All'interno di uno spazio specifico e aggiungere una varietà di terreni, meccanismi, trappole o persino potenziamenti nei diversi lughi Waddu quindi mi raccomando vi lascerò nel primo link in descrizione che esce in impact Mi raccomando scaricatelo tutti Adesso vi lascio al video Buona visione Bene ragazzi carichiamo un meta più gamer Oggi ragazzi siamo qui con un video incredibile perché oggi ragazzi siamo con gli elites Ragazzi ragazzoni Waddu oggi video specialissimo Come tutti i video speciali scusate Quando mai non abbiamo fatto un video speciale Bravo Omar Oggi ci sfideremo come abbiamo fatto ad Amsterdam con Giovanni Fois Però questa volta visto che siamo al Mac Facciamo il panino più amato dagli italiani Il panino più amato al mondo Il crispy mac bacon Permettere un po' di pepe per voi Tati non gioca perché sta a dieta Però magari adesso ci ripensa visto che Adesso vi dire il premio Tu 50 ero Waddu Sì Waddu veramente Waddu Ma anche il cibo pagato? Serio? Cibo pagato Ok Quindi Waddu Chi mangia? Chris McBacon più velocemente Vince questi 50 Henry sei pronto? Per me ha già vinto Ti sei allenato Waddu No 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 Ti sei allenato A rubare i soldi Quindi ragazzi andiamo dentro a mangiare Let's go Due crispy normali Quattro acque naturali E poi fai un panino senza bacon Waddu Il nostro pane quotidiano Certo Allora primo partecipante mister Al mio triantro Vai Uno Due Tre Voglio l'acqua Voglio l'acqua sarei importantissima Poco però poco Ho un po' di brutti ricordi con Antonio che mangia velocemente Fai il segnale Deve masticare veloce bene e ingoiare subito Però c'è da dire una cosa Lui è avvantaggiato perché il panino è più caldo Quindi è più friabile in bocca E' meglio E' meglio Freddo scendeva E' più meglio E' più meglio E' più meglio sicuramente E sicuramente la salsa ci aiuterà molto perché Aiuta come l'acqua la salsa Si 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 Ando secondo me ci devi mettere un po' d'acqua Non ti vorrei da consigli Però te li devo dare perché sei mio cugino Solo per questo Sai Anna Porto Adio eh Stammo a 37 secondi Prima del minuto sicuro ci stavo Adio Perché c'è Anto? Oddio Oh Quando mi si sporca Non capisco Vai Anto Io sono pronto a interrompere Per apri Anto Ok 56 secondi Prima del minuto Non sei andato troppo troppo bene Dai secondo me me la gioco Voglio vedere gli altri Allora Omar E' il secondo partecipante Però diciamo che non è conosciuto per le sue doti Culinaria Culinaria insomma perché comunque Sono molto lentino Però come avete visto dall'ordinazione Ma diù a lui è senza bacon Però Omar Hai 10 secondi in più 10 secondi Di penalità perché comunque Il bacon per me è importante Però mister Fa volume Uno Due Mastica veloce Om Tre Vai Om Mastica veloce Soprattutto con l'acqua Come ha fatto Anto Mastica veloce Anzi sapete una cosa Secondo me mister non si è aiutato moltissimo con l'acqua Perché c'è la salsa C'è la salsa Eh lo so però l'acqua è importante Però magari uno non ci pensa mentre mangia Va più una Vai 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 Nella testa adesso Lui non c'ha un pazzo Mastica veloce Mastica veloce Stai pensando a niente Cosa stai pensando Oh e quando stai dover Tutto litri S'ha butto Ma come Ma io Però non butta giù Eh Mastica Però non butta giù Il caro Omar Ma lo so ragazzi Siamo già A me non ti dico perché non ti voglio penalizzare No 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 vai vai O comunque caricare Ah boh Ma io comunque la gitti Cioè Omar non è conosciuto per queste doti Però Tu non stai mettendo il massimo Si vede Oh 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 Vabbè oramai hai perso Vabbè a godi Allora è finito Un minuto e quaranta Più dieci Vabbè Due minuti Io ho provato ho detto Perché dentro c'è la C'è il daro E quello Va giù in fretta Ho detto mi faccio prima la parte fuori che è secca Però alla fine è stata Dura La mossa sbagliata Dice vabbè mister ha fatto meglio Ci sta ci sta ci sta ci sto Ma vabbè no vabbè Per te niente 50 euro Ne prendi un altro Vabbè E' una macchina vaglio quando si tratti mangià Vabbè io però lasciate mi piace solo per il coraggio del buon ravennato Ottimizziamo i tempi perché portare l'acqua alla bocca quando puoi metterla sul pagnino È vero magari Ma dopo se lo beve il pagnino Ho le mie tecniche Uno Due Tre Vai frigatti È un bel morsonato raga Porca mister Buon amico Però ti vedo che stai un po' perdendo tempo Ma vuoi fare Io ti voglio influenzare Ti devo imboccare io A te te nardo Ha fatto le finte Ma che Questa è la velocità normale A quello che lo mangi di solito Ma è vero Mirko Ma Mirko È tosto Devi andare Devi ingoiare Devi bere Un morso d'acqua Pochissima Giusto per far scivolare Ah punta sulla grandezza del morso E un altro tipo di tecnica Guardate come cambia il colore il viso di Mirko ragazzi Vai 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 butta giù un po' d'acqua Ingoia Sta cercando di capire cosa fare Panino acqua Panino acqua Veloce Non cincischiare Vai Mirko Vai quando apri la bocca Butta giù Butta giù Stop Un minuto e 0,4 secondi Era molto secco Ma molto secco È freddo Mi aspettavo che fosse molto più caldo Però ora vengono i partecipanti più attesi Fuse e le rilazzo Torno tuo caro Harry A te è bello caldo Quindi soffio No 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 Dai che è freddo No 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 Che sboa Siamo in un periodo nel quale non si può Dalla regina mi dicono beva un goccio d'acqua Uno Due Tre Vai Henry vai Eh va Hai già perso due secondi Ho perso due secondi Però vai io Fa lo stesso La testa Usa quella Che testa Deve usare il colore La bocca E' perché è sempre una roba psicologica Capito Mamma Verrà dato bei morsi Deve imbattere 56 secondi di mister 56-57 secondi di mister Butta giù Calma calma Harry Buon calma Harry Tranquillissimo Harry Che sei bel più piano Ho visto solo un'altra persona aprire la bocca così tanto Harry Non si può dire Perché guardano questo video Porca miseria raga Se lo sta divorando Divorando Rimane un po' di cheddar però Vabbè Mamma mia Harry Sei una macchina Io spero di fare di meno Così vado a vincere io Harry sei un mostro Harry sei un mostro Harry 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 appena apri la bocca Harry Harry perché hai bevuto Harry Apri Apri Stop Eh però Stavo bevendo Hai mandato giù l'ultimo pezzo Perché hai bevuto Devi solo aprire la bocca Eh per questo ho detto Io infatti ho interrotto Mi stavate sconcentrando voi a parlare Però comunque 56 Diciamo che è in vantaggio Però Manco io The last one Allora se faccio meno di 56 Praticamente non perdo 100 euro Si Però se sei onesto Parti con il panino da là Come ho fatto io Magari ci scivola A te hai scivolato anche Esatto Ti dico solo che comunque Di fianco a te Hai la medaglia d'oro Hai cambiato l'acqua ragazzi Mi sembrava Ronaldo Quando ha spostato la coca cola Però voglio prenderne un altro Quindi uguale Uno Due Tre Se ne è partito Andrea Concentratissimo Sguardo basso Solo Fisso e concentrato Verso un unico obiettivo Ragazzi Guarda come manda giù Guardate L'acqua Che entra Come prova a lavorare Sulla psicologia di Andrea Qua è un morso e basta Questo è un morso e basta Calma Sa che nel rush finale Andrea Lo sa Vediamo 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 Lo sa Attenzione Lo sa Lo sa Stop Questo è il tempo signori Andrea Voglio comunicarti Che con grandissima sorpresa Di tutti quanti Hai fatto una prestazione Talmente incredibile Che non è bastata Che l'hai presa nel c***o Quanto sei Amici in quanta euro Vabbè mi devo congratulare con lui Perché comunque è stato bravo È vero Grazie Siamo sempre stati amici Sempre amici 25-25 Tutti amici Dal primo momento Io ho pure offerto il pranzo Io ho pure offerto il pranzo Posso fare una cosa? Potrebbe fare un secondo giro Visto che comunque Era un Paga tu Paga tu Allora pagava Fusegamer direttamente Ho pagato Investo in crypto No Omar Wow due minuti E dici secondi per prenderseli Cosa fare con 50 euro? Beh con voi 50 euro Penso che gli investerò in crypto valute Ah è già lì Quindi ragazzi Mi raccomando lasciate un bel mi piace No non è vero No ragazzi No noi ci becchiamo al prossimo video Bella ragazzi Bella ragazzi No guarda il rito È millissimo No no Ciao Ciao